Prende forma la Casa dei Giganti. L'involucro è un involucro molto particolare, frutto di tantissimo lavoro che parte dal 2011 quando abbiamo vinto il concorso per il museo. L'idea è stata quella di utilizzare una tecnica scultoria inventata da Costantino Nivola, il SEM Casting, che è stata da noi reinterpretata e trasformata da tecnica scultoria, appareamento scultoreo, in struttura dell'edificio. La nostra intenzione era quella di ispirarci alla Sardegna sicuramente e l'artigianalità del SEM Cast è stato mantenuto intatto e l'abbiamo superato trasformandolo anche in un elemento tecnologico. Ci fa piacere che il Museo dei Giganti, che sono delle sculture in pietra, abbia un involucro che non solo narra la storia delle sculture, ma che in qualche modo anche matericamente parli delle sculture stesse.